Quante domande vi fate ogni giorno? Quante risposte vi date ogni giorno? Quante domande vi fanno ogni giorno? Per cominciare ve ne ho già fatte tre. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. E lo so, e lo so, sono fissato, sono fissato con questo tema delle domande che per me è fondamentale. Da quando fui fulminato, decisamente fulminato, ai tempi del ginnasio, anzi del liceo per la verità, con la scoperta della maiotica socratica, mi è rimasto questo gusto per la domanda, che è stato poi alimentato, pesantemente alimentato, da tutta una serie di letture, di studi, di approfondimenti, di applicazioni professionali, perché il lavoro è fondamentalmente domanda, il mio lavoro, il lavoro di consulente, il lavoro di venditore, il lavoro di tutti coloro che attraverso le domande vogliono capire. Guardate i telefilm, anche nel campo medico, se non sei capace di fare le domande giuste, quelle che ti permettono di scoprire quali sono le cause, non va da nessuna parte. Anche tutti i metodi che vanno ad analizzare i processi aziendali, i problemi aziendali sono basati sul tema della domanda. Provate a vedere i romanzi gialli, io sto ascoltando attraverso Audible i romanzi di Megret e di Simenon che sono spettacolari, ve li consiglio, sono dei capolavori, non sono dei gialli, sono dei libri di una profondità disarmante. Fanno domande, si fanno domande, si pongono domande, Poirot, Sherlock Holmes, ma chi volete, ma chiunque volete è una questione di saper fare la domanda giusta. Volete anche un riferimento teologico? Beh, Gesù fa domande nel Vangelo, prima l'intente domande, poi fa anche tante affermazioni, ci mancherebbe altro, ma questo suscitare la consapevolezza passa dalla domanda. E allora perché non ci facciamo e non facciamo domande? Ma a volte è perché abbiamo paura di quelle che sono le conseguenze delle domande. E già, perché una domanda ha una conseguenza, non è una domanda falsa, retorica, che resta lì in mezzo all'aria, che diventa manipolazione, che diventa strumentalizzazione. Quelle sono domande farlocche, sono domande violente, perché nascondono sotto la forma del punto interrogativo quello che in realtà è una violenta affermazione. e non è che sto facendo questo cappuccino per promuovere il mio libro, l'arte della domanda, che è centrato sull'uso della domanda nel mondo della vendita. No! Se volete comprarlo non mi offendo, ma non è questo lo scopo evidentemente. È che per me questo tema della domanda è una domanda fissa, qualcosa che mi rimane in testa, perché la domanda porta consapevolezza, l'esame di coscienza, e non sto parlando soltanto di quello spirituale. Andate a prendere qualunque journal, qualunque agenda, qualunque diario, per la precisione, che ha come scopo quello di aiutarci a fare dei miglioramenti. Ce n'è quanti ne volete a disposizione. Li stiamo creando anche noi per i nostri podcast, i nostri tagli, le nostre attività. Perché no? Magari salterà fuori anche un journal del caffè. Ma non è di questo che voglio parlare, sennò sembra veramente che questo è un cappuccino finalizzato ad attività promozionali. E non è così. Non fatevi questa domanda, per favore. Sono fatti di domande. È la domanda che ti costringe ad andare in profondità. È la domanda che ti costringe a riflettere. È la domanda che ti costringe a darti delle risposte. Ma per farlo c'è bisogno di un'ulteriore competenza, chiamiamola così, un'ulteriore attenzione, che è quella di ascoltare. Ascoltare ed ascoltarsi. Se io non mi ascolto, non trovo dentro di me le domande. E tranquilli che non è sbagliata, come diceva un noto comico, e neppure è dispersa nel vento. Stiamo scherzando che la risposta è dispersa nel vento? No, no, no. Ci mancherebbe altro. La risposta è qui concreta davanti a me. Se volete, ma passatemela come battuta che mostra quello che ho nel cuore, è in quel famoso aforisma, si può chiamare così, di Vittorio Messori, che nel constatare che la grande domanda di Pilato in latino suona quid est veritas, trova risposta a questa grande domanda nell'anagramma di questa domanda, sempre in latino. Est vir qui ad est. È l'uomo che ti sta davanti. La risposta c'è. La risposta c'è. Basta saperla ascoltare. E allora, se io faccio domande agli altri, devo sapere ascoltare gli altri. E questo forse è un altro dei temi che tendiamo a fuggire. Non ci piace fare domande perché non ci piace dedicare del tempo agli altri per ascoltare. Che cosa ne dite? Riccarda Zezza su LinkedIn parlava qualche tempo fa della necessità della presenza, che è una virtù del leader, che è una virtù di chiunque vuole in qualche modo guidare gli altri. Mettersi alla guida, che non vuol dire essere protagonista. Il più delle volte vuol dire fare un passo indietro. Torniamo al tema dell'umiltà che ci ha seguito nella puntata precedente del Cappuccino. Ecco, questa umiltà è fondamentale per l'ascolto. Ed è fondamentale per fare domande intelligenti che nascono da quello che tu mi stai dicendo e non da quello che ho in mente io e che ci portano più avanti passo dopo passo alla scoperta di qualcosa che ci arricchisce entrambi. Certo, se io parto dalla presunzione, riascoltatevi il Cappuccino precedente, di sapere già tutto, di avere tutto chiaro, che non vuol dire non avere certezze. Attenzione, eh! Io ho certezze, ma queste certezze devono essere declinate nella situazione attuale, nel contesto preciso, nella nostra relazione, in quello che stiamo facendo, nel tuo lavoro. Ecco, questo diventa fondamentale. farsi domande non vuol dire mettere in dubbio tutto, non è il dubbio sistematico. Farsi domande vuol dire avere magari la capacità di ritornare al punto di partenza con più certezze. Ma farsi domande è lo stimolo che porta avanti. E quindi fare domande agli altri, fare domande costruttive, fare domande che veramente permettano di scoprire qualcosa di più, di portare alla consapevolezza. Ecco, io credo che il vero tema sia quello della consapevolezza. Ma la consapevolezza richiede interiorità, richiede introspezione. Sono ancora virtù queste? Sono ancora palestre frequentate queste? C'è ancora il tempo per fermarsi a meditare? E tutti i sistemi, non sto parlando solo di religione, sto parlando di tutti quei sistemi anche professionali che invitano al miglioramento, suggeriscono caldamente la meditazione, che è tornare dentro di sé, escludendo l'esterno. Ecco, la domanda, secondo me, è un po' la guida per questo. Ne ho parlato in una puntata del podcast molto bella, perché ho imparato tantissime cose dalle mie due ospiti, Alessandra Colonna e Francesca Di Falco, proprio per farmi guidare da coloro che usano la domanda professionalmente a comprendere sempre di più. e come potrei a questo punto chiudere questo cappuccino se non facendovi una domanda, una ulteriore domanda? Quali sono le domande che vi hanno regalato di più? Quali sono le domande che vi hanno fatto o che vi fanno che vi regalano di più? Quali sono le domande che vi fate più spesso che vi regalano di più, che vi permettono di andare più a fondo? Io vi lascio non con una mia domanda ma con una domanda che ci ha regalato Francesca Di Falco in quella puntata del podcast quando ci raccontò che la domanda che l'ha accompagnata per tutta la vita è una domanda fatta dal suo padre in più epoche della sua vita e che suona così Ma tu cosa vuoi fare da grande? Che non è la richiesta di dare una descrizione ma è l'invito a capire veramente che cosa vogliamo dalla vita Grazie a tutti e buon cappuccino Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram telegram.me slash caffè con Paolo senza l'articolo mi raccomando caffè con Paolo sempre su Telegram puoi contattarmi telegram.me slash Paolo Pugni grazie e alla prossima puntata Grazie a tutti Grazie a tutti.